bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi sfide della settimana numero 8 una di queste ci chiede di cercare 5 volte la spada di sky nelle rocce e quindi ragazzi andiamo a vedere quali sono le location che ci interessano e quali sono le rocce la prima ragazzi si trova esattamente nel quadrato di mappa c2 e più precisamente proprio in questa roccia come vedete lì davanti a me c'è parco pacifico questa roccia avrà una spada quindi ci atterrate la prendete e la roccia numero 1 è fatta per quanto riguarda invece la location numero 2 siamo sempre vicino a parco pacifico ma più precisamente nel quadrato e 3 come vedete ragazzi dove c'è questa montagna vicino al fiume troverete questa roccia e ci sarà la spada quindi location numero 2 fatta per quanto riguarda invece la location numero 3 dobbiamo invece andare sopra lago languido e più precisamente nel quadrato f5 andando nel quadrato f5 come vedete ragazzi siamo praticamente paralleli alla strada che ci porta a corso commercio basterà raggiungere semplicemente questa roccia e troverete la spada posizione numero 3 fatta per la posizione numero 4 invece dobbiamo lasciarci alle spalle corso commercio quindi come vedete siamo sulla montagna e stiamo guardando corso ci giriamo raggiungiamo la vetta di questa montagna e questa roccia ragazzi ci darà la spada 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 numero 4 fatta e siamo arrivati quindi all'ultima posizione ragazzi la spada numero 5 si trova vicino all'agenzia quella nella casella f1 vi spostate a destra e come vedete in questo gruppo di rocce troverete la posizione dell'ultima spada beh ragazzi io vi ringrazio per avere guardato anche questo video della soluzione alle sfide della settimana numero 8 vi mando un abbraccio grande e vi ricordo che mi trovate in live adesso su twitch ciao ciao